mi spiace non avervi fatto vedere niente perché fondamentalmente non avete visto nulla però vi lascio come sempre la traccia in descrizione che è molto carina da sviluppare da sviluppare buongiorno a tutti oggi sono qui con la solita africona con gomma alternativa dallop 908 rr giretto molto alternativo oggi scavalco gli appennini o le alpi che siano ancora non lo so direzione toscana partenza fidenza sta traccia è stata ricavata penso sia un parte della tet e parte una traccia che ovviamente come sempre ho costruito un po io a casa incrociando street view piuttosto che mappe topografiche e quant'altro video limitati cellulare e drone perché purtroppo la gopro è dovuta andare in assistenza che ha deciso di non partire più dopo questi quattro mesi di stop non ho capito perché grosso limite l'assistenza l'assistenza gopro è veramente lenta nella sostituzione della camera purtroppo a differenza dell'assistenza del drone che è stata veramente veloce parliamo di neanche una settimana per avere indietro un drone della dji con l'assicurazione refresh mentre con l'assicurazione gopro siamo molto lenti ci vogliono ormai sono dieci giorni circa vediamo un po cosa ci riserva quindi oggi riprese in movimento saranno purtroppo poche vediamo vediamo un po cosa ci riserva rischia stavo perdendo un po le speranze perché dopo i bei primi 20 chilometri mi sono sparato un bel 20 chilometri di asfalto l'ultimo pezzo qua è stato tosto come vedete con la neve fortuna vuole la gomma dietro in questi punti ha aiutato un po tanto fango fortunatamente ormai sono sui monti e il fango appunto è diventato bello strong duro e permette di procedere agevolmente a differenza dei primi 20 chilometri ho trovato i classici terreni di collina argillosi e ancora una volta hanno dato noia hanno dato noia al parafango e alla ruota che tirava su e tendeva a bloccare quindi attenzione se ripercorrete il giro che in realtà questo giro è fondamentalmente gran parte della via francigena quindi attenzione ai numerosi pellegrini ovviamente attenzione mi raccomando con molta calma tanti rami caduti piante rami di traverso un po d'attenzione e poi purtroppo la strada sembra andare molto bene ma accidenti accidentaccio neve salita complicano le cose in un modo un po troppo impegnativo quindi purtroppo partiva veramente bene di vieti per vita privata dietro dura vita dell'esploratore insomma qua gira sempre male fango neve un disastro disastro strade che vanno a finire vabbè mi consolo con la mia schiccettina la mia motoretta è qua pronta a ripartire un po di energia e via ormai sono in cima alla cisa non resta che scendere sono ancora in mezzo alle valli speriamo qualcosa di meglio perché qua sta diventando un calvario calvario tra neve fango cara grazia le gomme ma è un casino piante cadute fiume 30 centimetri di neve salite impegolate ormai le energie sono quello che sono e mi spiace non farvi vedere niente però oggi gira così oggi ve la racconto oggi ve la racconto è praticamente la traccia che ho preparato passava tutta lì sopra diciamo che sono stato un po ottimista questa è la via francigena ma qua è proprio diventa pedonale bene 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 chissà se trovo qualcosa qua in mezzo oggi è un po complicata la situazione adesso con una leva spero di riuscire a spostarlo fischia ok il più è fatto anche perché avrò fatto 50 chilometri ma sono ancora a 400 chilometri a casa quindi fischia oggi impegnativa è bella è bella 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 ma tutte queste piante ragazzi mi raccomando un bel seghetto pioghevoli almeno una lama da una spanna può aiutare molte situazioni è il momento che volga il termine ragazzi intanto mi mangio una mela che sono stravolto mi sono sentito un eroe oggi perché 15 chilometri 20 di sterrato avrò tirato su 20 piante aperto la via mi sono sentito un eroe per me stesso un eroe per chi percorrerà la strada bella peccato che veramente piante 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 cioè proprio per capire cioè questa è fradicia cioè probabilmente posso anche strizzarla e niente vi spiace avervi fatto vedere niente perché fondamentalmente non avete visto nulla però vi lascio come sempre la traccia in descrizione che è molto carina da sviluppare da sviluppare soprattutto lascerò un bivio perché mi sono bloccato per la neve un bivio dove poi sono tornato indietro mi sono bloccato per la neve però in realtà promette molto 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 bene quel passo anche se si stava un po incazzando di sopra quindi ma 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 ciao 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 ciao